A sta la vista ragazzi sono sempre io TheGamer800 ragazzi finalmente anche io TheGamer800 sono su GTA V ragazzi ovviamente non su GTA V normale ma su GTA V online ragazzi andremo a fare oggi la creazione del personaggio quindi ragazzi non ci resta che andare a online Tenete conto ragazzi che io ho la prima volta che gioco GTA online quindi gioco GTA online vai uscire da GTA V 5 6 6 ok poi fa boom 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 ok Sì 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 quante cazzate ho letto in via Ok ragazzi vediamo Io avevo fatto ragazzi precedentemente su GTA V qualche video ma non sull'online vi ricordate sull'Xbox 360 così Così alla cazzo di cane ragazzi registrati col telefono perché all'inizio non ero veramente uno youtuber serio Ora diciamo che pian piano pian piano lo sto diventando cresceremo assieme Ok nuovo personaggio Polizia di Los Santos quindi così è Dovrebbe essere la creazione del personaggio questa ragazzi boh vediamo un po' Ok Ok ci facciamo le foto qua cos'è 000001 ok Allora sesso uomo certo origine Mamma Sofia Eveline Eveline Zoe Olivia Olivia Emma Misty Eve Come? Ava? Nata 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 Certo che è strano creare il personaggio ragazzi Capite tu scegli il padre e in pratica ti cambia il personaggio cioè ragazzi io questa cosa non lo sapevo No ma che brutti personaggi che stanno venendo fuori Somiglianza Ok la pelle magari a metà ho capito ho capito come si fa E' per questo che vengono quasi tutti uguali i personaggi ragazzi deve essere per questo che vengono tutti uguali Questo sembra nico bellic ragazzi guardate incredibile sembra nico bellic guardatelo guardate anche nella foto lì nico infatti è nico cioè non lo sapevo ragazzi C'è Ah sono quelli tipo di Degli altri gta una cosa del genere Santiago ma che cazzo Cioè no ragazzi veramente se posso fare nico io faccio nico è un po brutto anzi anzi questo ragazzi claude con lo sped da quello di gta 3 ok somiglianza no 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 va bene va bene ok ok ritorno al menu ok tratti somatici arcate sopraccigliari piatte standard sporgenti piatte piatte dai occhi ma posso scegliere addirittura raga tutto del personaggio grandi stretti standard stretti così una faccia incazzata ragazzi ok naso grande piccolo standard piccolo non troppo grande il nostro profilo del naso convesso no profilo del naso convesso infossato infossato punta del naso rotta all'insù rotta come rotta normal standard zigomi facciamo standard guance magre labbra sottili standard carnuse ma standard ragazzi mascella che altro c'è mamma mia forma del mento così profili del mento piccolo grana piccolo mascella o grandi arrotondata squadrata standard non standard è meglio ok queste sono le cose che avevamo già fatto prima aspetto capelli cortissimi a bello questo taglio che i capelli devono essere vediamo ben rasati no cortissimi no questi sono da ipster su belli all'indietro no questi che schifo sembra un anziano questa è una specie di cresta questi no coda di cavallo no la rasta c'è le trecine vabbè questi laccati corti ordinati con le ponte spettinati capito questo da don chi lo vuole fare donne il personaggio ragazzi questi su ipsterino qual era da ipster questo ipsterino poi ben rasati cortissimi e sinceramente lo voglio fare così ragazzi da motociclista da motociclista si chiamano che sbarbato barbe baffi no 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 a me non esiste ragazzi personaggio senza barba assolutamente voglio trovarla tipo la barba che ho io una specie di quest ragazzi questa qui mi piace questo tipo questo tipo la barba più o meno io quindi siamo questa ragazzi barba ispida imperfezioni della pelle ma no da invecchiamento no pelle rossore no dai scottatura ma che cavolo dai nei lentiggini no no non li odio dettagli pelle ruvida ma si dalle pelle ruvida colori occhi verde smeraldo azzurri blu oceano marrone chiaro marrone scuro nocciolo di oscuro grigio chiaro verde smeraldo azzurri dai trucco occhi dai che cavolo nero fumè bronzo grigio chiaro occhi di gatto c'ho la vamp ma che cazzo sono per le donne questo e avimetal questo ragazzi oh mamma mia troppo bello ragazzi ok anche qui abbiamo fatto l'abbigliamento ragazzi da strada ma possiamo direttamente scegliere tutto l'abito cioè che cavolo vediamo casual ti sceglie in pratica tutto il vestito intero da strada da strada deve essere bello col pigiama da ma che cazzo appariscente ho capito questo è tipo tutto allora festaiolo prendiamo festaiolo nomi da bagnante elegante sportivo sportivo mi interessa ma fanno schifo sinceramente ragazzi io direi di fare da strada qualcosa di più interessa il pigiama no ci abbatte non le voglio questo ragazzi sarebbe fico aspettate un attimo questo questo qua questo mi piace cappello addirittura il cappello noi dei capelli ragazzi che sono una favola mamma mia sti occhiali che belli ragazzi che belli alla terminator ragazzi alla terminator vediamo 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 se troviamo qualcos'altro il cappello lo togliamo grazie non lo voglio più ho deciso mamma mia ragazzi troppo belli questi ok statistiche in che senso resistenza ho capito ma non si possono modificare a zero statistiche ok salvo e continua ragazzi pronto per giocare gta 5 line e certo che siamo pronti ragazzi ok ragazzi si parte pronto per giocare gta 5 line certo ok che devo selezionare salvo e continua ok nome del mio personaggio ovviamente ragazzi mettiamo the game art 800 se va bene così deve messo 100 accetta ragazzi abbiamo fatto una bella fotografia in faccia e adesso vediamo se sono io mi piace questo personaggio 0 0 0 0 0 0 1 polizia de los santos 1 ma non so che cazzo significa ti stai unendo gta online ok ragazzi ok vi ho detto io ce l'avevo per xbox 360 ma giocavo solo con la storia perché l'ho comprato il giorno che uscite gta 5 vuoi saltare il tutorial di gta online o no tanto ragazzi questo è il primo episodio non farò subito sparatorico se non vi aspettate chissà che non vi aspettate chissà che perché no che devono imparare ma non è che ci vuole niente però devo come dire in medesima nel personaggio devo indirizzarlo dentro gta 5 online quindi devo prima fare qualche mission cina non sai qualcosa così oh ragazzi eccoci qua bello fa la musichetta la cosa in gta online puoi partecipare in attività con o conti genocatori di tutto il mondo vabbè sì lo sappiamo lo sappiamo almeno qui ci arriviamo ragazzi ok la texture si stavano ancora creando ecco qua le auto le cose belle 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 ma io posso guiderne cazzo di auto no no devo solo guardare ragazzi così è purtroppo sembra l'anteprima di un film può costruire la tua collezione di auto nel garage acquistabili sparsi per la mappa sfide le altre attività vabbè sì magari fosse tutto così bello come lo fanno sembrare in questa specie di trailer ragazzi ovviamente ecco il mio personaggio guardatelo ragazzi mamma mia devo dire che questo è l'aspetto che vorrei avere io c'è la barba sfatta a suo meno un po' a me però quella capigliatura ragazzi la vorrei avere ma i miei capelli non me lo permettono quindi non posso essere proprio come lui ok aumenterà anche il tuo rank spruccherei nuove armi ecco la mar ecco la mar come se mi conoscesse fanno sembrare come si mi conosce allora ce ne fa si ce lo fa grazie bello dove vede ma che cazzo ti conosce c'è la prima volta che ti incontro c'è il mio personaggio non risponde male ragazzi non parla proprio mamma mia già una pistola ragazzi proprio sono il padrone del mondo con quella cazzo di pistola ma cazzo dammi un minigun un lanciarazzi che cazzo mi dai una pistoletta di merda per combattere contro gli altri su Los Santos ma porca merda ragazzi dammi qualcosa di più grosso mi fa vedere tutta la cosa qua l'aeroporto di Los Santos come se non lo conosco io faccio parte delle famiglie ragazzi di Grove sicuramente e texu si stanno ancora creando ragazzi non so perché fosse una cosa dell'inizio del gioco vedete le texu che si creano si stanno ancora perfezionando forse è perché la mappa è grande se lo conosco quel posto lo conosco qua mi daranno il copy ragazzi minimo per la musica purtroppo non voglio saltare questa parte il gameplay lo volevo fare tutto ragazzi alla fine perché devo saltarlo oh stiamo andando tipo da qualche parte questo è il posto proprio qui ok se lo ho deciso siamo tutti tranquilli tranquilli oh qua ci sarà una corsa credo beh il mio personaggio è bello ragazzi dai shay 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 cazzo dice allora ora la possibilità di diventare un boss selezioni diventa un boss e crea la tua organizzazione tramite la sezione securo serve oh appena sbarcato qua ti hai nato un trofeo già un trofeo ragazzi ok anche se è bronze non vale un cazzo ok allora 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 ragazzi di gamert 800 e l'amar ci sono solo due dentro allora vediamo un po' ok ci sono devo aspettare vabbè in attesa di altri giocatori come se questa fosse una partita con gli altri ragazzi vabbè che cazzo dici sta aspettando ragazzi dici secondi pochissimo manca tipo di gara da punto a punto classe berline e altri cazzi non posso cambiare nulla avvio di sessione ok posso scegliere almeno l'auto? di classe ASEA Asterope Fugitive De classe Premier Albini I Benefactor Shafter no queste no questa è interessante questa anche la macchina di Michael no le classe ASEA e sono sempre quelle allora io direi dei ragazzi di scegliere al massimo questa quella che c'era in The Battle of Gaettoni ragazzi colore voglio scegliere un colore ragazzi che mi rappresenta ovvero un colore che mi rappresenta aspetta aspetta porca miseria non ho scelto il colore dall'auto porca miseria ragazzi allora Declamerso 800 azione vittoria dito vediamo un po' dito rock saluta sega bada bacio no 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 ragazzi dito dai pronto a giocare la mia macchina di che colore è venuta? non so neanche di che cazzo di colore è venuta la mia auto ragazzi oh Declamerso 800 ci sono ragazzi ci sono anche io su GTA 5 online porca miseria dai ragazzi lo dobbiamo battere alla mare credo sia solo lui in questo credo ci sia solo lui in questa gara no? almeno almeno credo no? ah ah coglione cosa penso di fare? di superarti e vincere la gara? cosa penso di fare? cosa quanto di fare questo? quello che ho appena detto porca puttana e sei ragazzi no porca merda quello che è successo a lui sta succedendo a me no bastardo eh no cazzo te la farò pagare cazzo no cazzo ragazzi lo dobbiamo superare porca miseria me ne prego un cazzo che è un tutorial o qualcos'altro figlio di puttana vieni qua vieni qua la mar figlio di puttana bastardo mi ha superato in un momento in un momento di difficoltà non si fa così bastardo anche io l'ho fatto prima ok ragazzi ok dai 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 la mar levati dai coglioni peccato qui non si può speronare ragazzi qui non si può speronare come cazzo è possibile? ci sono molti giochi di gare dove tu puoi speronare no far distruggere le auto oh the gamer 800 è prima è quello che volevo vedere scritto dai cazzo dai ma io non so neanche ancora il colore della mia auto ragazzi che colore è venuto dalla mia auto io non lo so io non lo so buttiamo i cartelli a terra ragazzi giusto così giusto perché c'è lì sul cazzo niente di personale ma perché devo scegliere solo il personaggio in base alle cose che mi dicono loro oppure in base alle auto che ci sono disponibili perché non posso scegliere io delle cose proprio cioè no mi danno delle cose prestabilite devi fare questo devi fare questo devi fare questo ma vabbè sarà così ragazzi il gioco non lo so tenete conto che dopo destiny questo è il secondo gioco online che c'è in realtà perché differentemente dalle serie che io seguo ragazzi cioè le serie che sto portando sul canale tipo sleeping dogs non credo ci sia l'online non ho mai constatato questa cosa GTA ovviamente lo dovevano fare l'online oh ragazzi sapevo di dover di dover essere il primo eh sono arrivato ragazzi porca miseria arrivato primo mamma mia ragazzi vabbè adesso mi daranno tipo i soldi i ponti ok ok 3.110 mi fanno comodo rp rango 2 ok wow mamma mia da rango 1 a rango 2 ragazzi mamma mia pochio becce ragazzi porca puttana zitti tutti ok vabbè ho battuto la mar per il momento ok no scommesse niente continua vediamo che succede visto che è il primo episodio al prossimo episodio invece ragazzi giocheremo liberamente 3 nuove auto e nuove modifiche ok che raga sta succedendo qualcosa vediamo sì sì già cosa dopo che ha perso ragazzi zitto adesso non parlare perché non parla il mio personaggio la grafica devo dire che migliorate ragazzi dalla xbox che avevo ovviamente alla precision 4 devo dire che migliorate sì sì ciao la mar hai perso zitto vergogna sì 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 ciao ciao e io ragazzi perché rientro nella mia auto chi ti ha detto chi ti ha detto di entrare nell'auto io non ti ho dato l'ordine raggiungi l'incontro no 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 ragazzi assolutamente ragazzi no comunque ragazzi io spero che questo primo episodio di GTA 5 all'anno veramente ne porterò tantissimi ragazzi così ogni tanto ne porterò uno come una specie di serie quindi ragazzi spero che questo episodio vi sia piaciuto se volete lasciate un like condividete iscrivetevi se noi siete iscritti alla prossima